le attente linee guida alimentari di oggi fino agli anni 80 e 90 erano decisamente più allentate si parlava ad esempio tranquillamente di burro che poi non è un peccato parlare di burro è una cosa che si può fare quanto adoravo peraltro questa pubblicità la canzoncina la ricordo ancora anche se il burro negli anni 80 in tv era soprattutto quello della giglio lei usa burro giglio altro che è un burro squisito ottimo come condimento indispensabile in cucina è un burro buonissimo lo dice perfino giumbolo o quanto è buono quanto è buono il burro e se lo dice giumbolo noto nutrizionista dobbiamo crederci ma queste qui erano spot tutto sommato a piombo i veri disastri gastronomici risalgono a quando erano i nostri genitori ad essere dei bimbetti innocenti con pubblicità cartacee in alcuni casi un po fuori di testa dove era esplosa una vera e propria burro sessione da noi ma anche in germania questa pubblicità dove ci si chiede tuo figlio ha ricevuto abbastanza burro oggi con il bimbo che guarda la mamma e sembra che dica ma ne mutter sei sicura che devo mangiare tutta questa spattafiata di butter ma io vorrei soffermarmi soprattutto su due pubblicità che hanno regalato cose strampalate o teorie direttamente prive di qualsiasi fondamento tipo questa il burro è buono e ti fa bene ma il problema non è il burro è buono ti fa bene ma la parte cerchiata io ecco non sono scienziato non sono barbascura x capitano ci avviciniamo al milione bravo sono solo stefano piffer ma posso dire che mangiare più burro possibile per lubrificare vene arterie ecco io non credo che sia scientificissimo che poi anche l'olio è scivoloso e allora perché anche non sgargarozzati un litro d'olio e le tue vene scivoleranno fino al campidoglio e poi l'idea di azzannare il burro a parallelepipedi vabbè io ammetto che a me il burro ha sempre fatto un po senso non lo mangiavo manco spalmato sul pane questi meme e che ne sanno i giovani d'oggi noi giovani d'oggi lo sanno e gli è andata pure bene quando me lo dava mio nonno pane burro e zucchero fissavo un punto sul soffitto inghiottivo senza masticare da quanto mi faceva impressione ma un piatto intero di burro vabbè dai avrebbe ucciso chiunque poi altra pubblicità vaneggiante quella del milione ora il burro non serve solo a renderti scivoloso ma puoi anche usarlo come profuma ambiente se lo friggi che poi tutte le cose cuocendole friggendole scandandole mandano odore profuma la cucina e vi regala la mucca carolina che fa anche rima cioè dai più dannoso di questo ci sono solo i ventordici litri di lacca usati dalla signora per trasformare i capelli in una cofana inscalfibile è stata lei praticamente a creare il buco d'ozono per inciso io vado spesso alle fiere vintage e la mucca in pura plastica gonfiabile di questi gadget c'è pure la versione di susanna tutta panna beh meno di 100 150 euro non la trovate infine qui il burro c'entra marginalmente perché protagonista è la birra birra burro burro birra harry potter sei tubo ma sapete che mezzo litro di birra equivale a 52 grammi di burro secondo questa pubblicità comunque già vi vedo bere un litro di birra e poi dire all'alcol test ma no gente ho mangiato 6 uova vabbè che dite altri video su pubblicità vaneggianti degli anni che furono commentate festosi e festanti e fatemi sapere se è meglio finirla qua e continuare con gli anni 80 oppure se andare ancora un po' più indietro e scoprire le nefandezze di un tempo